Questa rubrica è offerta da Decathlon, il negozio degli sportivi Siamo tornati al Palamatteotti di Montevarchi dove abbiamo conosciuto la squadra 2007-2008 della Fides Con Marco Caponi, uno dei coach della Fides, abbiamo affrontato il tema del valore extrasportivo di giocare a basket a questa età Il lavoro nostro è un fatto più di aggregazione che di risultati Il mio obiettivo è di portare a giocare a basket più bambini possibili E poi tanto se poi diventano campioni ci arriveranno in futuro Ma quali sono le metodologie di allenamento utilizzate in questa importantissima età di passaggio? Sentiamo a proposito l'allenatore Francesco Ragnini Siamo in un'età di passaggio, è l'ultimo anno e fanno i mini basket e il prossimo faranno il settore giovanile Si fanno due allenamenti la settimana da un'ora e mezzo, il martedì e il venerdì E sostanzialmente si cerca di insegnargli prevalentemente fondamentali della palla a canestro Quindi il passaggio, il tiro, il palleggio, il terzo tempo, cioè tutte quelle attività che stanno alla base della palla a canestro Cercando di portarli a un livello tale che gli permetta poi negli anni successivi nel settore giovanile Di sviluppare le capacità motorie e non soltanto motorie ma anche tecniche del gioco della palla a canestro E adesso sentiamo i ragazzi Tommaso Matassoni Ho deciso di cominciare a giocare a basket perché già mio padre giocava e ho provato Mi è piaciuto molto come le regole del gioco e comunque come il gioco in sé E da ora sono sette anni, quasi otto, che gioco a basket e mi piace insomma Ciao sono Ruben Amato, ho 11 anni e ho 3 anni che gioco nella Fides e il mio giocatore preferito è Lebron James Ciao sono Daniele Segreto, ho 11 anni e gioco a basket da 6 anni, quasi 7 Io con i miei compagni mi trovo bene anche con l'allenatore, posso giocare tranquillamente nel campo Poi per la stagione va bene, giusta Nonostante un ruolino di marcia si inquinano troppo positivo I giovani gialloverdi hanno le idee piuttosto chiare riguardo il loro futuro Questa stagione è andata male e bene perché abbiamo tutte perse noi come partite Però ci stiamo dando da fare per vincere almeno in questa stagione nel torneo di Sansepolcro Ciao 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 Grazie a tutti.